Oggi sono Cristian! Saluta Nicolò! Saluta Nicolò! Dai! Dici ciao ragazzi! Dai vai Nicolò! Guardi una cosa! Non ho registrato! Mi sta guardando! Eh noi stiamo registrando! Nicolò vai! Eh Nicolò dai saluta! No! E' troppo bene ragazzi! Ora stiamo giocando Alla modalità di Jowick! Alla! Questo è il primo uso Alla di Wick! Che taglia? Mamma! Taglia di Wick! E stiamo giocando a Taglia di Wick! Ma che nome è in grecia Nicolò? No no! Non è vero! No no! Non è vero! Non ci stiamo ridicando! Mamma! Guarda! Guarda! Mamma! Eh raga! Nicolò dove andiamo? Mamma! Mamma! Vediamo! Bravo Nicolò! Lasciami la cestona! Mi la devi lasciare! Oh! Sono io quello che fa lo youtuber! Mica se te! Eccetera! Potresti che alcuni non sanno dov'è! No! Potresti che alcuni non sanno dov'è! Eh no! Vabbè! Te non c'è! No! Non è vero! Non è vero! Nicolò la devo prendere io! Io l'ho preso solo una volta! Tu un brodello di volte! Fommela prendere la mia! Dai Nicolò! Dai Nicolò! Fommela prendere la mia! Ti prego! Però è mia! Lasciamela cest... Lasciamela! Nicolò è mia! Però tutto il loot è mio! e che schifo no no ridommelo aspetta 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 lo tengo materiale lo pretendi senti come lo pretendi ora lo ammazziamo vai Niccolò vai dentro vai vedere chi sei io non vengo ma c'è il mano ma che faccio non so ma fuori ma come ma dove stai luttando piccolo non dovevi luttare là non dovevi buttare per niente sto qui mi fa il culettino rosa è boba dove ho e io non lo so perché sto ancora volando sto venendo ma come sto scherzando Niccolò allora non c'è gente ma però mi deve lasciare qualcosa perché io praticamente non so che perché tengo del lutto da schifo tu tieni luttare che è più buono dinti più scudone mio mio scudone via stronzo non trovo è bravo mi stavi facendo dire una parolaccia e già questo non te lo devo dire ma non ti può dire l'albo eh lo so non stavi eh allora tu non mi fai arrabbiare ecco non me lo puoi far dire abbattere con un te l'albo prendila eh devi aspettare muoviti aspetta aspetta no io l'ho ammazzato però poi vabbè ma nemmeno a me me ne frega allora perché me l'hai chiesto aspetta pesucche fateli fateli non ha fatto è l'acqua che cosa è quello che è lo devo mantenere mamma mia oh io sto mantenendo i cildini che vuoi e io cildini sono meglio i cildini e per me è sicuro eh va bene e per bene o no e no per benissimo da lontana ti può servire e cildini cosa aspetta ma che la tieni tu la jump sì tengo qui qua tieni una tieni una veda dai vai tieni il budget no dammi ti faccio cadere ti faccio cadere ma come dai lo sai che sono più forti di te io faccio cadere no 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 scusa però mi devi dare il budget no ma io te lo so la meglio di te il budget ragazzi come vedete lui è un po capriccioso perché non non so perché capriccioso vabbè ragazzi vabbè ragazzi vabbè non facete caso è un po capriccioso il bimbo ragazzi questo nicky è un po no no è che tu sei peggio di best tu sei capriccioso sei peggio sì sì tu piangi dalla mattina alla sera e seppure su dai lasciami quella di col mio no è mia la prendo io oh sì sì che è volentieri no yeah eh sì non ha mai giusto congelatore a picciare eeeh guarda qui chi ha trovato una torcia dicola io allora lasco queste cose qua e io prendo le scuole e io prendo le scuole e io prendo le scuole eeeh no e vabbè solo uno sì e quelli ti fanno che sono picciaglie ma io non la voglio eeeh la tengo nikonoo nikonoo ha.. andiamo dai terzi ma andiamo dai terzi ma si stanno fermi eeeh eeeh ma non lo danno quando c'è stato Nicolo ma dov скорее di dicersi E' quello di soldi, ma dove le vedi i terzi? Mi aspetti? Se tu non mi aspetti, boh! Che faccio? Ma non è che si fanno i tuoi? Niccolò, hai visto? I terzi stanno faiutando con altri perché stanno fermi da un bordello di tempo. Stanno faiutando perché stanno fermi da un bordello di tempo. Ma stanno faiutando perché stanno faiutando. Ah si, no, ora si stanno muovendo. Basta non... Se tu mi aspettassi signora! Cese dai, dove sei? Ma perchè spari a caso? E' quello? E' chi era? Aspetta! 52! Niccolò, Niccolò! Aspetta, attento, attento, Niccolò! Ti do una mano! Ci sono io! Eccolo! 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 Ma non me la vedi che è stata una piazza di cinque, se non la vedi che si non pareggia. Eccolo! Ma non si! Ma non ti c'è ma ora! Eccolo! Eccolo! Io un incontro, mi guardo? Eccolo! 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 cosa perdatti non so è rimasta pochissima vita lo pusho la bussha la bussha la bussha ma quello ci stiamo incontrando nicola è quello eccolo eccolo deve essere lui no 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 con me tu non devi avere che fare eh sì dai chi è? eh ragazzi eh nicola dai facciamo gradivo le facciamo fai diamo un po facciamo vedere quanto siamo forti nicola nicola ti muto mi ti faccio sentire vuoi che ti muto? allora grazie eh nicola c'è tu mi hai fatto fare io dovessi registrare tutto il tempo con te e io poi non posso giocare con i miei amici vero? e non posso registrare con chi? con i miei amici perché io ho creato il canale per noi due e ora io non è che dovessi registrare solo con te Nicola no non posso registrare solo con te perché vedi il staff e fede che giocano che registrano pure con gong cioè non è io dovessi registrare pure con gli altri ma che c'entra? eh ma c'entra perché io devo registrare pure con i miei compagni e lo so allora facciamo una nuova regola quando stanno i miei compagni e tu arrivi io ti invito a te va bene poi invito i miei compagni però se sto in una live con i miei amici che devo fare? invitare va bene no non la puoi fare ah è vero hai ragione è vero che solo se ci sei tu posso registrare io non ho capito 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 eh Nicola comunque non ho capito capito Nicola comunque ti ho detto una cosa Nicola prima cosa puoi buttare quel barret che io non lo tengo no io non vado allora vabbè eccolo allora e poi tu hai ragione io non posso non posso registrare senza di te perché non tengo il permesso io di registrare senza di te se voglio registrare registro da solo perché io tengo il permesso di registrare da solo mannaggia mannaggia allora il primo è sì pure dal gruppo Niccolò Perché c'è un problema Io appena sono dentro la discolativa Sono grasciato Niccolò è finito Niccolò, ma dove sei? dove sei Niccolò? Niccolò, fai il termino ciao come lo vieni? iupiii 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 vado a prendere armi ah, che bello puoi fare termina così se non stiamo in squadra? l'ai una scena e la rogancio iupiii vedi al manco all'inferno e la rogancio fai termino è termina vedermelo nicolò che mappa facciamo? una di fight io tu solo ti posso liberare nemmeno io rigenerati quella trappola l'ho fatta per te Nicolò è la posta sono bravissimo Nicolò Nicolò sono sul pallone c'era tutto nero Nicolò col pallone no capitano Thor fa troppo casino con le cuffe Nicolò capitano Thor capitano Thor no Nicolò mappa di fight un bel niente oppure un bel niente no niente parkour oppure la ritogli va bene solo per questa porta mappa piccola va bene questa eh tu l'hai messa da 150 livelli non so quale quale? mmm 150 livelli perché hai fatto scatti? Nicolò vuole tu hai scatti? sì pari non so quale scatti non so quale scatti non so quale scatti non so quale scatti aiuta maaa non so quale scatti non Oh... Neeeeee! No, va schifo! No, va schifo! Amore, donna 100! Bato, facciamo la mappa di fai, te la metto io, l'ho tutela! No, io quella non la faccio più! Ah, domani... Un enigma? Beh, la metto qua! Lui ha messo quella id Volee la id Ma... no, questa è lì Questa, questa! Riccola, Riccola! L'ho messa, l'ho messa! Sta qua! Sta qui! No, Riccola! E poi sta uscita! Vabbè! Non volevi quella nuova, vero? E io uso questa! Quando devo giocare con i miei amici, senza che registro, uso questa! No, oddio! Bomba! La safe! E poi non tiene senso che mettono la safe, vero Niccolò? La passiamo! Niccolò, poi vale andare in una tragatella, eh! Io ci sono andato! Va bene! Lo vedo il velocioso, com'è bello! Vabbè! Vabbè, non vale andare in una tragatella! Mannaggia a te, Niccolò, però! Cosa? No! Non mi sono preso una tragatella! Niccolò, tengo solo il barrette! Solo il barrette! Mi sono preso solo il barrette! Io non mi sono preso più di niente! Io tengo scarretico! Pompo il nonno! Barretta e mitraglietta! Che poi che vedi il video, Niccolò? Poi lo vedi? Faccio vedere il video, vai! E va bene! Ah! Equiscope! 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 Devo dire! Ah! Ah! Ma, ma ha fatto abbandonare! Niccolò! Mi ha fatto abbandonare! Oh! Mi ha fatto abbandonare! Oh! Mi ha fatto abbandonare! Poi, Niccolò! Tu vedi il video! Vedi il video! Prima cosa del barrette! Non ho preso un'altra casella! E vabbè! Quella è una... Basta che vedi! Sto entrando! Poi vedi il video che io sono crashato mentre te mi sparavi! Cioè, non sono crashato! Quella era una bugia! Me lo sono inventato in mente! Non sono crashato! Ma mentre tu mi hai sparato... Boom! Abbandonato! Mi sai che avevi sparato al muro? Riccolò! Mi sai che avevi sparato al muro? Non lo sai! Aspetta, Riccolò! Glere un cadena? Non lo so! Ciao! Rip! Piccoggiatto! No, no! 1 a 1! Oh! Che è 1 a 0! dovevo prendere già avete detto che non vale sulle montagne ma ora lo dice ho superato del grande ti vedo no prova a uscire io ti sparo no 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 vale di coloro non possiamo fare che non mi vale nessuno no no nicolò mi vale non si può dire che non vale 1 2 3 4 5 6 non è vero ti chiami l'ultimo è un po' nuovo mi è uscito nicolò no pistolina della miccia mi sono confuso che ti uscite a te nicolò ah la jump per ora me la prendo me la so preso visto per quanto me la so presa nicolò piccolò ma che smira tiene ma sono poche sono mamma 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 vo или ma non me la so bang che bello lo dice a me che mi stia sbagliando e a me che mi ne frega della tua mappa vento su per 6 anni costruisco qui con un provello non c'è senso non c'è senso che io mi faccio sciogliere non c'è senso che io mi sto guardando del tutto sono 150 era 20 di vita e 25 di scudo ora 150 poi lo fai se lo fai tu lo faccio io mi pare 96 ah no no ne tenevo 64 perchè mi avevo fatto 100 mi avevo curato del tutto mi avevo fatto 150 mi ha buttato giù da lontano riccola ti piace che sei nel mio canale ora ti piace che sei nel mio canale riccola ma è la prima volta tua che sei in un canale di un tuo amico è la prima volta è quello chi è? cristiano no no ma che devi ammazzarla ancora qualcun altro? no ah sono rivivo si ancora sei qua? no sei pagato la mappa sei pagato la mappa eh sono fuori te io non 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 eh no mai la vinco io Nicolana mai la vinco io dove sei? no io vengo in vabbè 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 non vado io dico per così che ho vinto io non lo dico per così ho vinto io vabbè no no vabbè lo so lo so io sto dicendo così a caso ho vinto io perché poi hai vinto tutto ho vinto io 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 nooo eh va bene oh finalmente una volta il pompa nuovo finalmente era ora mi usciva il pompa nuovo eh finalmente e questo finalmente che ci è uscito le granate che è fortuna no 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 ti ffff tu ci devi morirà faccio sceldini sceldini ok dai safe grazie safe Grazie, devo vivere in un safe E ragazzi come vedete Noi siamo ancora qua E vedete quanto sono forte io Vabbè non critico il mio amico Perché pure lui è forte Raga comunque non sentitelo Sono più forte io Perché non so perché Oh tu ti dicono che sono più forte io Niccolò non ti devi vantare Facciamo così Allora non ci vantiamo più Tu non sei forte io non sono forte Siamo tutti e due nabbi E non ci vantiamo più Va bene? E poi schifo un po' Ma che tieni nel tablani? Ehi che tieni la pistolina? Lo voglio io Fai un noscop Perché tu non lo sai fare No io l'ho fatto L'ho fatto un bel cinquanta L'ho fatto cinquanta sette Riccola Perché non ti fai una gata? Che ne dici? Uno di vita Uno di vita Uno di vita Uno di vita Senza scudo Senza scudo poi Una di vita che ho rimasto No vabbè mi ricordo che tenevo No mi ricordo No ho detto una bugia Perché non mi ricordo bene Tenevo cinquanta sette scudo Uno di vita è cinquanta sette scudo Cioè sono caduto Da tene da caduta E sono rimasto così A poca vita Chi è questo? Niccolò non può giocare Lo sai perché non può giocare? Vero? Ma mamma mia Hai visto che t'ha fatto il cristian? Sto scendendo Sto scendendo Sto scendendo Salgo 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 Muori Ora qui ci salgo io con la bolla No mannaccia Mannaccia la bolla Mantengo nemmeno più materiale per salire Ho finito il materiale Dai Però potrei fare sta variata Ah ma io le posso rinascere Che bello Mi prendo un po' di tutto io Niccolò Lo fai? Mi prendo questo Sono indeciso Mi prendo questo Mi prendo pure il barretto Visto che ci sono Ci stai Niccolò? Il barretto è fuori safe Ma non c'è a te Niccolò Non ho fatto andare Oh eccolo qua il barretto Ma posso rinascere? No Però mi devi rifaiutare Chi? No No Te strogo Chi? Però mi devi rifaiutare Io tengo Lo sai che luce tengo? Tengo il barretto Il pompa Chi? Il sangue Buona No non posso venire Buona accocciata Eh sì me la fai Vai Pura Eh sto registrando Vabbè Ciao Sali fra Vai Sali Le regole sono così No No Io qua non è che la vinco La perdo Però finché sto qua sopra Nessuno ne può prendere Oh però la smetti Un attimo Oh vale A te non capito Però a me sì Voglio un po'? E io ho Due di vita Benissimo È finito tutto È finito il materiale? È finito il materiale? Ma sei sotto? Ciao No 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 Eh sono rispawnato Lo sai Questa è la vittoria Niccolo Doppia vale Ma come? Ah 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 Eh ma non è coppavia C'è un bag Niccolò Vuoi sapere come si fa il double pump? Non si può fare Ma c'è un bag Tu puoi risparre un po' Un po' Non mi lascio vedere Sparare Vabbè nuovo? Che? Ah 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 Lo butto lo butto Un attimo Un attimo Un attimo Fammi curare Devi stare fermo Devi stare fermo Fra devi stare fermo Mi devi fa curare Dù la c'è Quosa? Dù la c circulating Adesso Metti me la sobra Pr 산ными structures I do Di Ver Shadow no vale perché l'ho posato il pompa poi no 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 perché è uguale è buon e mi sono appropagato come l'hai saputo? stavoci è finito è buono Niccolò dove sei? dove sei? non so non mi vuoi dare un po' i pastini? mi stanno va bene non mi vuoi dare un po' i pastini? 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 mi vuoi dare un po' i pastini? lui ha detto una persona di chi fa io fratello non si era così Niccolò come hai fatto a mettere John Wick? oh eri tu il leader! però tu sei messo salta No, no, dai Niccolò, Niccolò, non metti tanto, Niccolò, mi freddo solo a me le partite, Niccolò. Non posso più mettere per il mio partite. Ascoli, gruppo. Mio fratello mi stava dando fastidio. Ci ho detto che sto registrando. Tra poco io devo caricare pure il video. Però tu sei felice, Niccolò? No. Perché? Perché non sei felice? Niccolò, perché non sei felice? Perché sei... Riccolò, ma tu come facevi a non crederci prima? Come facevi a sapere? Non lo sapevo. Ce l'ha detto uno. No, non lo sapevo. Perché tu vedevi che io non parlavo mai, perciò pensavi, ma questa non stava registrando, vero? Non so, sta registrando. Non sta bene. Però, ora tu ci credi che sto registrando, vero? No. Perché io non ci credi? Perché io non ci credi? E vabbè. Poi ci credi? No. Vabbè, seppure non ci credi, tanto vai a vedere sempre il video. E poi? Stavo per dire, registro con un altro mio amico, però io non tengo il premesso, vero? Per dire, registro con un altro mio amico. Perché io non ci credi che io non lo sapevo. E poi? Non lo sapevo. Io non le faccio. Sono io sotto. l'ha detto prima io c'è uno a terra non ci guadagni i soldi guadagni questi cosci non è perchè sono da mia meno ancora mi sa che abbiamo un premuto abbiamo bevuto troppo lo sai pure due non è vero questa squadra dipenderà solo di anonimo vero nicola perché questa è vero perchè io sarò il capo di nicola perchè gli anonimi sono quelli più forti e noi saremo gli anonimi più forti di tutta italia e nicolo io comanderò a nicolo e lui non comanderà proprio dietro no è tutto giusto dai ricolo questa volta è stati il dito da ricolo ho fatto tutta l'altro bene e porca nooo l'ho detta giusta è buon da me pure da me è buon da me è buon da me il king ma eccolo c'è sempre un cavaliere che arriva da sopra è sciolto a tutti quanti e poi ragazzi gli anonimi sono quelli più forti di tutta italia e io sono l'anonimo 22 bianco aia ha fatto un po male pure a te nicolo e la squadra di anonimo sarà sempre quella più forte di tutta italia perchè io comando a nicolo e lui non comanda proprio niente oh senti sto a volare intro bella zitto e non lo io sono quello più forte di tutta italia sto a volare youtuber grazie come si chiama? facciamo il video ho un sprigio va il dronasca tre'am du prevent tieni qua, tieni qua, tieni qua stanno merendo, stanno merendo non sono qua chilo l'amico nooo what the fuck Niccolò non possiamo andare più qua è rivoloso quello no, no, no no, no 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 vabbè no 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 no